Israel! Debris! Israel! Debris! La casa vincera! Siamo arrivati tutti! Assassini! Assassini! Mi fanno morire qua! I lavoratori, i lavoratrici, sciopero! Quei ragazzi che sono morti e stanno continuando a morire sotto le bombe! Palestina è libera! Palestina è libera! Basta genocidio! Basta! Per stare a protestare continueremo a scendere in piazza! Palestina è libera! Palestina è libera! Per ribadire il nostro rifiuto alla violenza, all'oppressione che sta subendo il popolo palestinese Condanniamo fortemente il genocidio in corso! Palestina è libera! Palestina è libera! Gaza! Gaza! Vincerà! Sì! 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 Facciamo un po' di spazio! Sì! 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 Dopo aver la cerca di consolato ci prepariamo a partire! Abbiamo fatto sentire la nostra voce! Assassini! Sì! Assassini! Sì! Al arrow! U.A! Palestina libera! Daere, fascista, stato terrorista! E ho qualcosa da dire a nome dei ragazzi che come qua a Piretti! Da parte di giornalisti che hanno vittimizzato, hanno depoliticizzato gli eventi di vero e discorso! Quelle ragazze erano lì!